ciao a tutti oggi siamo nella serra vi faccio vedere sto provando a riprodurre delle piantine di nostrale per aumentare un pochino la produzione dell'oliveto queste qui sono con il fiocco con il nastrino arancione sono nostrale queste qui senza sono marchigiana e insomma adesso aspettiamo almeno fino a marzo vabbè questo è un infestante di sotto c'è la piantina e aspettiamo fino a marzo insomma si iniziano a mettere delle genere fogliolino vuol dire che hanno preso speriamo in bene comunque mi chiedo aggiornati prossimamente sono quando quando vedremo le gemme che iniziano a uscire faremo un altro video ok per adesso è tutto iscrivetevi al canale ci vediamo i prossimi video